Americo Di Benedetto, Emanuela Iorio e Antonio Nardantonio pronti ad uscire dal gruppo consigliare del Partito Democratico. Questa è certamente più di un'indiscrezione ad oggi e si parla di ore addirittura per comunicare con ufficialità questa inversione di rotta che forse dopo la sconfitta elettorale, almeno per Americo Di Benedetto, era già nell'aria. Di Benedetto si sarebbe riservato di prendere una decisione e poi comunicarla entro qualche giorno e con lui dovrebbero uscire Nardantonio e Laiorio, per ora nessuna dichiarazione ufficiale. Ancora non è dato sapere dunque se i tre formeranno un gruppo misto in seno al Consiglio Comunale oppure passeranno al passo possibile la lista che poi ha eletto Paolo Romano e degli Aserpetti e che è quella che di fatto ha sostenuto Di Benedetto alle elezioni amministrative. Certamente per il PD locale non è un bel momento e sembra esserci all'interno una guerra che sta portando a delle evidenti spaccature che forse dovrebbero essere spiegate meglio. A scatenare ancora di più gli animi ci sarebbe stato il famoso Consiglio Comunale straordinario sul presunto spostamento degli uffici regionali a Pescara al quale mancavano Albano, il segretario comunale e Palumbo, il capogruppo. Due figure certamente chiave. Emanuele Aiorio per questo aveva già manifestato a più riprese il suo disappunto. Ora quest'altro passaggio staremo a vedere.